Musica Alascio è da sempre uno dei punti di riferimento per il turismo per quanto riguarda la riviera di Ponente qua in Liguria. Non peraltro qua 60 anni fa è nato il concorso Miss Muretto, noto a livello internazionale e con moltissime altre iniziative. Fra queste due anni fa è nato il consorzio Macramè. Barbara Porzio, consorzio Macramè. Esattamente, siamo sette ristoranti di Alascio, ci siamo autoscelti nel senso che siamo i ristoranti che all'epoca della costituzione del consorzio sono solo ristoranti, quindi inteso come ristorazione in senso classico. E copriamo un po' tutti i quattro borghi di Alascio, il borgo Coscia dove ci sono Lamberti e la Prua, poi passiamo nella parte centrale, quindi diciamo zona Muretto dove ci sono il ristorante Mozart e il ristorante Gabbiano. E il Palma, lo stellato che adesso momentaneamente sta facendo un'esperienza romana. E poi andiamo in Borgo Barusso dove ci sono il Seilin e il Panama. Per fare qualità lo champagne direi che è l'elemento essenziale. Per questo che avete inventato questa manifestazione, un mare di champagne, coinvolgendo un mare di Maison Francesi. L'anno scorso è stata una scommessa, noi siamo ristoratori quindi non è che abbiamo una grandissima esperienza di gestione di un evento, però l'anno scorso già è stato un successo immenso, comunque inaspettato, perché abbiamo avuto l'adesione di 42 Maison di Champagne, oltre 85 etichette in degustazione. E' stato talmente incentivante aver avuto questo successo, soprattutto aver avuto poi un riscontro positivo sia da parte delle Maison, che insomma hanno trovato una location anche adatta voglio dire. Paolo Quartero è uno dei sette ristoratori che aderiscono a questo consorzio Macramè, dire, fare e mangiare, niente di meglio per un ristoratore. Niente di meglio, esatto. Noi ci impegniamo per quello. Voi siete i rappresentanti un po' del meglio della ristorazione, perlomeno qua ad Alascio. Come è cambiata la ristorazione negli ultimi anni? Beh, la ristorazione ha cambiato molto. Noi non ci consideriamo il meglio perché, sa, non si può fare questo. Diciamo che noi cerchiamo di dare prodotti di prima qualità ai prodotti del territorio, sempre. Questo è lo spirito che ci accompagna. La ristorazione ha sicuramente in questo periodo attraversato un momento difficile, legato anche alla spesa, però diciamo che noi siamo sempre riusciti a mantenere alto il livello.